charles bukowski vecchio in agosto avrò 73 anni quasi ora di fare le valigie per un salto nel vuoto ma due cose mi trattengono non ho ancora scritto abbastanza poesie e poi il vecchio che abita nella casa di fianco alla mia vivo e vegeto a 96 anni picchia sulla finestra col bastone e manda baci a mia moglie capisce tutto schiena dritta passo svelto guarda troppa tv ma noi allora ogni tanto vado a trovarlo ciacola non dice cazzate tende a ripetersi un poco ma vale quasi la pena di riascoltarlo ero da lui un giorno e ha detto sai presto tirerò le cuoie ma ho detto io non ne sono poi così sicuro eh io sì ha detto perciò che ne diresti di fare un cambio con casa mia e certo la tua è carina ma non so se puoi darmi quello che voglio in cambio dipende mettimi alla prova beh ha detto vorrei un nuovo paio di testicoli quando morirà il vicino sarà difficile riempire il gran vuoto che lascia mi sono spiegato